Massimo, altissimo, poi resta una terra in due, comunque si rialza e fedele, attenzione a Pinilla, l'area di rigore lo mette giù Bubnich, occhio qui, c'è il calcio di rigore e non sono per Bubnich. Vellatura per Bubnich, insufficiente la sua prova, quindi c'è anche questo errore che ha causato il calcio di rigore, andiamo a rivedere qui. Belez cercherà di opporsi al tentativo di Luca Cigarini, arriva il fischio dell'arbitro, rincorsa di Cigarini, rete! 3-0 Atalanta, Luca Cigarini torna titolare, segna il rigore, la squadra di Reia mette una serie ipoteca sulla vittoria finale, 3-0 dunque per la Dea. Carpi, che aveva provato qualcosa in questo inizio di ripresa, ma troppo poco per impensierire la difesa bergamasca. Qui andiamo a rivedere la battuta di Cigarini, Belez intuisce, ma non riesce ad opporsi. gol dunque di Luca Cigarini, 3-0 Atalanta, minuto numero 63 lo dicevamo prima.